Negli ultimi anni in Italia il mondo delle birre artigianali ha vissuto una grandissima espansione. Diversi sono anche i produttori che si sono fatti apprezzare a livello internazionale e questo ha una valenza ancora maggiore se consideriamo che il nostro paese non proviene da una tradizione consolidata. La storia che vi raccontiamo oggi appartiene proprio al mondo della birra. Siamo a Castel San Pietro Terme quindi tra Bologna e Imola e i protagonisti li vedete qui accanto a me sono intanto giovani come molto spesso accade nel mondo della birra molto appassionati e anche con una formazione che si è consolidata all'estero. Però qui parliamo anche di birra artigianale agricola e vedremo anche che cosa significa questa ulteriore declinazione. Pierpaolo e Alice ve li presento intanto e andiamo subito a scoprire il birrificio claterna questa struttura che hai inaugurato due anni fa in realtà l'avventura parte qualche anno più indietro ma ci racconterà tutto Pierpaolo in questi terreni che appartengono alla tua famiglia. Sì la nostra era un'idea di riprendere in mano i terreni della nostra famiglia e dargli un valore diciamo. Quindi abbiamo deciso di unire le due passioni che avevamo quindi la passione legata alla birra e quella comunque dell'agricoltura, di portare avanti i nostri sogni diciamo. Siamo partiti nel 2014 con una collaborazione con un altro birrificio agricolo a Fabriano e ci ha permesso di incominciare questa avventura prima con le prime cotte, le prime birre per vedere se ci sarebbe stato un mercato anche per noi e abbiamo visto che la richiesta cresceva e quindi abbiamo avviato tutti i lavori per fare il nostro impianto di proprietà nel nostro birrificio qui vicino a casa. Quindi noi coltiviamo l'orzo nei nostri terreni, poi lo portiamo a maltare, una malteria dove siamo associati e il malto ottenuto dal nostro orzo lo utilizziamo per produrre le nostre birre qua in birrificio. Dopo allora andremo anche a spiegare un pochino come si produce la birra in tutti i passaggi. Intanto Alice il nome è Claterna, a cosa fa riferimento? Non tutti sanno che cos'è Claterna e noi cerchiamo anche in un certo modo di farla conoscere. Claterna è una città romana nata tra Bologna e Imola e purtroppo poi negli anni è stata, è scomparsa, è andata a scomparire e noi abbiamo deciso di legarci al territorio e diciamo di fare riscoprire il gusto autentico della birra così come gli scavi archeologici stanno facendo riscoprire questa bellissima città che insomma negli anni è scomparsa. Ecco allora spieghiamo proprio cosa significa birra agricola. La birra agricola è la birra che deve essere prodotta da un'azienda agricola che utilizza almeno il 51% delle materie prime autoprodotte in azienda. Noi attualmente coltiviamo l'orzo quindi il 100% dell'orzo che utilizziamo è prodotto dalla nostra azienda e per il lupolo invece ci stiamo lavorando insomma ci piacerebbe arrivare tra qualche anno a poter avere anche la nostra produzione di lupolo fatta proprio qui di fianco al birrificio. Arriviamo allora anche alla descrizione delle fasi di produzione che cosa accade dall'inizio alla fine? Allora si parte alla mattina entriamo in birrificio e con la pesa dei nostri malti, varie tipologie di malto per ogni birra ha la sua ricetta quindi si parte col malto base poi dopo se vogliamo fare delle birre rosse o scure o particolari si aggiungono delle piccole percentuali di altri malti più tostati o più proteici e dopodiché si macina tutto il malto attraverso il nostro mulino che serve per non per fare uno sfarinato però per schiacciare solo le cariossidi e quindi rendere disponibile il l'amido contenuto la farina contenuta all'interno dopodiché si entra in birrificio si introduce il malto nel primo nel tino di ammostamento dove si aggiunge anche l'acqua e durante questa fase bisogna fare stazionare questo impasto a diverse temperature per diversi periodi in modo che entrano in gioco i vari enzimi che vanno poi a rompere molecole di amido in zuccheri semplici o complessi che possono essere utilizzati dal dal lievito durante la fermentazione dopodiché si trasferisce nel tino filtro che serve per separare le sostanze solide del del malto dal mosto liquido nel mosto liquido zuccherino dopodiché viene trasferito un altro tino e viene la fase di bollitura in questa fase è molto importante perché innanzitutto viene sterilizzato il il mosto e dopodiché si aggiunge anche il il luppolo all'inizio della bollitura per dare l'amaro alla birra invece alla fine della bollitura si aggiunge il luppolo per dare l'aroma dopodiché si trasferisce si deve trasferire nei fermentatori quindi andiamo ad abbassare la temperatura da 100 gradi a temperatura di ebollizione fino alla temperatura giusta per l'inoculo del del lievito e a seconda delle tipologie di birra può essere dai 10 12 o 20 22 gradi quindi in questa fase è finita la giornata di lavoro questo processo dura otto ore quindi è finita la giornata di lavoro in birrificio e entra in gioco il lievito andiamo inoculare il lievito dentro a fermentatori quindi fa la fermentazione che può durare dai 7 ai 10 giorni a seconda della tipologia di lievito di birra e dopo serve una seconda fase di maturazione prima di imbottigliare la birra i nostri fermentatori sono tutti isobarici quindi alla fine della maturazione la birra è già gasata quindi non abbiamo bisogno di rifermentarla in bottiglia ma si può già bere una volta finita la maturazione e allora eccoci nella sala degustazione mentre Alice comincia anche a riempire il primo calice arriveremo naturalmente a descrivere alcune delle birre del birrificio claterna ovviamente qui ne abbiamo una selezione ma è soltanto una parte delle diverse linee di prodotto però vogliamo intanto con Pierpaolo ritornare un pochino a soffermarci sulle materie prime che vediamo qui e quindi diversi malti il luppolo e anche il frumento che in alcune birre entra in gioco allora Pierpaolo le materie prime sono ovviamente importanti sì sono molto importanti a partire dal dall'orzo che questo qui è quello che coltiviamo noi che dopo una volta entrato in malteria viene fatto subisce il processo della maltazione e dopo a seconda della tipologia di orzo e della tostatura poi dopo dell'essiccazione del malto e si hanno diverse tipologie di di malto quindi a partire da quello chiaro questo qui davanti che serve per viene utilizzato per fare le birre chiare anche al cento per cento dell'interno di una ricetta poi dopo a seconda salendo con il grado di essiccazione del del malto si può avere il malto crystal che è un malto un po più caramellato con il quale si possono fare le birre rosse oppure caratterizzare le birre con corpo e colore e anche sapore di caramello di crosta di pane poi dopo aumentando sempre di più la temperatura di essiccazione si può ottenere il malto tostato e questo qui si utilizza al massimo un 5 per cento per produrre la birra scura una stout o una porter altrimenti abbiamo anche questo qui è il frumento che viene utilizzato in alcune tipologie di birra come la blanche o la vice e poi tutto il mondo del luppolo poi il luppolo si questo qui è il si utilizza il fiore della pianta femminile del del luppolo che questo qui è essiccato poi si raccoglie si separano i fiori coni detti coni e dal resto della pianta si si seccano e poi dopo per conservarli si possono utilizzare così essiccati in coni oppure pellettizzati ecco una curiosità ma anche l'orzo come insomma essendo un prodotto agricolo è soggetto diciamo a delle variazioni c'è un'annata più buona di un'altra diciamo così sì sì purtroppo dico di sì perché l'orzo è un prodotto comunque agricolo e quindi come tutti i prodotti agricoli risentono delle delle variazioni climatiche del delle annate quindi sono alcune annate che anzi hanno degli orzi molto proteici o magari delle annate dove non si sono proprio sviluppati la difficoltà in più per di avere un birrificio agricolo è anche quello allora nel frattempo alice ha versato il primo calice questa in particolare che birra è è una Weiss è la seconda birra che abbiamo prodotto ed è fatta con orzo e frumento è in uno stile tedesco quindi risulta essere torbida e leggermente fruttata le altre ce le descrivi? sì abbiamo la Nonno Gualtiero che è la prima birra invece che abbiamo prodotto è una birra chiara è una Keller Pils risulta essere un po' erbacea e con un finale leggermente amarognolo è la birra diciamo più semplice quella che diciamo assomiglia di più alle birre tradizionali tedesche nella quale siamo anche abbastanza orgogliosi perché abbiamo vinto diciamo un riconoscimento dalla guida di Slow Food e quindi insomma siamo abbastanza orgogliosi poi abbiamo Emilia che è la Blanche è una birra sempre molto chiara fatta con orzo, frumento, avena abbiamo aggiunto scorza d'arancia e semi di coriandolo quindi è la birra che risulta proprio meno amara di tutte è molto fresca, molto beverina piace molto anche alle donne poi abbiamo la Dumaron che invece è una delle ultime birre che abbiamo fatto e anche qui ci siamo legati al territorio perché abbiamo utilizzato la farina di marroni di Castel del Rio e siccata legna come veniva fatta una volta con proprio legno di castagno e quindi la birra risulta appunto essere un po' fumicata perché ricorda insomma la fumicatura della castagna abbiamo anche la Zio Joe che è una birra molto particolare perché ha un sacco di aromi, è molto profumata, molto fruttata sembra quasi di bere una birra dolce però in realtà è molto amara, qui il lupolo che utilizziamo proviene dall'America e infatti è un'America Nipa per quello l'abbiamo chiamata Zio Joe e poi abbiamo il Barley Wine che è una birra diciamo da meditazione, ha 9 gradi di alcol, risulta sgasata, è scura, è molto dolciastra va bevuta insomma a fine pasto nel periodo più indicata per il periodo invernale in accompagnamento con dei biscotti secchi è una birra passata in botte quindi i suoi sentori ricordano un po' del vino passito Allora grazie a Pierpaolo e Alice, io direi di concludere con un bel brindisi Oh che bello la Zio Joe per me Allora grazie anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia in sovrimpressione tutti i contatti per rivedere tutte le nostre puntate su Vimeo compresa la puntata di oggi ma anche i canali social quindi Facebook e Instagram, il canale YouTube insomma tutti i modi per restare a contatto con noi ma soprattutto vi diamo appuntamento alla settimana prossima alla salita ora e allora ancora un brindisi Grazie a tutti In collaborazione con me